Ciao a tutti e buona continuazione dell'Avvento. Siamo arrivati alla quarta domenica, quindi siamo quasi in dirittura di arrivo. Ecco quindi un brevissimo messaggio per questa domenica. C'è un passaggio nella scrittura che ci verrà proposta domenica attraverso l'Evangelista Luca che ha attirato la mia attenzione ed è in riferimento a quando Elisabetta dice alla visita di Maria a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Che è come dire realmente, davvero, ti sei accorta di me? Il sapere che sei destinatario dell'attenzione di qualcuno è impagabile. È anche vero però che questo stupore un po' nasconde la nostra paura di essere invisibili e in tal senso Elisabetta è un po' nostra sorella. Noi potremmo prendere esempio spunto da Maria, la quale è una donna forte, libera ed è capace di partire da casa sua per fare un bel tratto di strada a parecchi chilometri andare dalla sua parente che è più avanti nell'età e mettersi al servizio di lei, aiutarla. Maria col suo gesto ci fa capire che servire è un po' come regnare, che vuol dire che se scopri la bellezza di dedicarti a qualcuno e questo ti rende felice, beh tu hai vinto, sei un po' come un re. Quindi buona continuazione dell'avvento e buon servizio.